Piazza Maggiore, il maggiore, ha sempre stato un posto di incontro per i locali. La piazza del XVIII secolo, con i piazzi bianchi e grigli, i porticoli bianchi bianchi, un numero di cafés smart, che sono stati attaccati per cento di anni a discussioni, accordi, a negozioni e al negozio, o a chiamare semplicemente, che ha sempre stato un piacere tipico a queste persone. Piazzi di diversi anni, dal XV al XX secolo, paragonalmente all'arrivo, ha di testificare la famiglia passata delle famiglie potenti che governano la città per centenari. Il magnifico Palazzo Valeri, ristorato nell'epoca del XVIII secolo, il palazzo Zanella, con i piazzi bianchi finissimi, l'antica Banca del Monte, il palazzo curioso di Cassa di Risparmio, che, inoltre il palazzo medievale, si tratta di volta all'ultimo secolo. L'unico piazzi che si tratta di circa al periodo di piazzi e i piazzi bianchi, sono i piazzi a parte del nord-est. Si tratta di loro semplicità. Il palazzo della loggia, in new renaissance, si tratta della città di St. John's Baptist. Un monumento a Vittorio Emanuele II si tratta dell'interno della lì, dove l'antica di Venetia, ora in Piazza Grani, si tratta di primavera. Bia Rakti.